Ciao a tutti, stiamo per iniziare. Centinaia di persone del perché abbiamo fatto questa Zoom, come sapete stiamo lanciando un progetto incredibile, stiamo veramente lanciando un programma pazzesco, attendiamo giusto qualche secondo, qualche minuto, in modo che possano connettersi tutti alla live chat. Mi raccomando ragazzi, condividete il video, commentate, fate quello che volete, perché veramente sarà una Zoom da paura, da panico. So, ok Mark, just we wait some minutes to let everyone here in the chat, so everyone can connect and can follow us. Perfect, and everyone, hello! Ciao a tutti! So I'm so excited to be rocking this Facebook Live. Sono felicissimo di fare questa Facebook Live con voi. You got Antonella right there translating me. Antonella, io vi tradurrò quello che dirà Mark. You got my brother Paolo right here next to me. E c'è anche Paolo, ovviamente. And most important, you know it's Italy, it's my favorite place to visit in the world when I was there. E poi ovviamente sapete che l'Italia è il posto che preferisco al mondo. It was the number one thing on my list. Era il posto numero uno sulla mia lista. And I can't wait to be coming to Milan again next week. E non vedo l'ora di ritornare a Milano la prossima settimana. And I have great news for you right now. E ho anche delle grandi notizie per voi. Paolo and I are committed to providing you with the support you need to win. Paolo e io siamo pronti a darvi tutto il supporto necessario per raggiungere i vostri obiettivi. So we're going to be doing live health coaching every two weeks to help you be your best. Perciò abbiamo deciso di fare queste Zoom per live coaching per aiutarvi e farle ogni due settimane. Esatto, Mark, let me introduce you because we have already so many people. Ok, ragazzi, veramente sono troppo contento di poter presentare Mark. Pensate che abbiamo veramente il prestigio e l'onore che Mark ci aiuta ogni giorno, ogni settimana a raggiungere gli obiettivi personali fisici che ci siamo proposti e anche comunque a aiutarci a sapere molto di più sulla nutrizione. Lui è uno degli esperti a livello mondiale più riconosciuti sul pianeta Terra, se così vogliamo dirlo. Pensate che nonostante sia già un personal trainer e una persona che sulla nutrizione davvero può insegnare a tutti i ragazzi, lui è stato anche nominato per ben due volte come best seller dal New York's Time, quindi è riconosciutissimo, collabora con Dr. Oz, con Oprah Winfrey e veramente è una star per noi e è un piacere enorme poter condividere la presentazione con Mark, fagli qualche domandina e toglierci qualche curiosità sulla nutrizione perché come sapete al giorno d'oggi ci sono anche un pochino di bociferare e chi meglio di Mark può risolverci un po' di dubbi. E se vi siete appena uniti alla chat abbiamo detto prima che faremo delle Facebook Live ogni due settimane. And I'm giving all of you the thumbs up because remember I have my iPad right here watching everything. E sto guardando tutto dal mio iPad, quindi un saluto veramente a tutti. Paolo and I are going to be working with you every two weeks doing live health coaching. Ogni due settimane io e Paolo faremo questi video di live coaching insieme. So I want you to look at today as the vision to help grow Zen Project 8 in your health throughout Italy. Quindi voglio che guardiate a questa live oggi come, guardandola nella visione generale per un progetto più ampio in Italia. We're going to focus on you tonight. Questa sera ci focalizzeremo su di voi. We're going to be focusing on the new presentation that's in Italian. Ci focalizzeremo anche sulla nuova presentazione totalmente in italiano. Then we're going to have a blast together in Milan next week. E ci divertiremo un mondo a Milano la prossima settimana. And then two weeks from today, same time, same place, Paolo and I will continue the live health coaching. Fra due settimane, alla stessa ora, allo stesso giorno, io e Paolo continueremo a fare questi video di live coaching. Now I've loved, I was in Spain a few weeks ago. Sono stato in Spagna qualche settimana fa. And I hung out with my brother Pierre. E ho incontrato mio fratello Pierre. I was in Germany a month ago and I hung out with my sister Stefania. In Germania, invece, un mese fa, ho incontrato la stupenda Stefania. And I met Paolo in May and I fell in love with this man. E a maggio ho incontrato Paolo e mi sono innamorato totalmente. I love his passion. Amo la sua passione. I love the passion of everyone in Italy. E amo la passione di tutti quanti in Italia. And I have one focus today and forever on. E il focus di oggi è per i giorni e i mesi e gli anni a venire. To help every single person, you especially, to win with your health. E di aiutare ognuno di voi ad ottenere i risultati giusti per la vostra salute. E ci vuole molto di più di una Facebook Live ogni tre mesi o di un grande evento per ottenere dei buoni risultati. Ci vuole supporto costante ed è quello che voglio fare per aiutarvi. Così come anche Paolo, sono sicuro. Ok, allora ragazzi, molto semplicemente Mark ci aiuterà ragazzi ogni due settimane a tenerci in contatto, condividere i nostri risultati, darci dei consigli preziosissimi perché davvero professionista sa che nella trasformazione fisica bisogna farlo step by step. Non bisogna improvvisarci e stasera ci farà capire con una presentazione in italiano con delle slide pazzesche del perché Zen Project 8 sta facendo dei risultati incredibili in tutto il mondo e sta aiutando centinaia di migliaia di persone a raggiungere davvero degli obiettivi straordinari, rimanendo in salute e ovviamente modellandoci come meglio crediamo. Quindi sia per le persone che vogliono un risultato magari di due o tre chili, per persone che vogliono completamente cambiare la loro fisionomia o per persone che davvero vogliono andare pro. e ovviamente grazie anche a un aiuto dell'attività fisica, ovviamente dell'alimentazione, riuscire ad avere una trasformazione incredibile. Quindi Mark, I will give you the speech. Ok, and everybody, so every show that we do, ogni show che facciamo, ogni video che mostriamo, we're going to have cutting edge information for you to win with your health, vi diamo delle informazioni all'avanguardia per aiutarvi ad ottenere dei risultati buoni per la vostra salute. We will then answer your most asked questions rispondiamo anche alle domande e a partire da due settimane a questa parte mostreremo i risultati di uno di voi. So we are looking, looking for the best transformation starting now. Quindi stiamo cercando la migliore trasformazione a partire da oggi. Now for the next 20 minutes, I'm going to walk you through the program. Nei prossimi 20 minuti vi illustrerò un po' il programma. And I want to share with you what makes this program different than everything else. E voglio anche dirvi cosa rende questo programma diverso da tutti gli altri. I want you to educate you on the simplicity of how to use the products. Voglio dirvi come sia veramente facile usare questi prodotti. But most important, I want you to gain clarity of how you can actually start living your best health. Ma voglio anche far sì che capiate come vivere al meglio la vostra vita in maniera salutare. Quindi questa è la nostra nuova presentazione di Zen Project 8 in italiano, completamente in italiano. There are a few slides that still need to be translated from English to Italian. Ancora ci sono delle slide che vanno tradotte dall'inglese all'italiano, però. But you will have access to this presentation by the end of the week. Alla fine della settimana avrete pieno accesso a questa presentazione. Now I want you to think about right now, what do you want to achieve with your body? Adesso voglio che pensiate a cosa volete ottenere dal vostro corpo. What is the goal that you want? Qual è il vostro scopo, l'obiettivo? When I look at someone like Paolo, he wants to gain weight. Quando guardo uno come Paolo, credo che voglia mettere su massa muscolare. When I met so many of you in Milan in May. Quando ho incontrato molti di voi a Milano, a maggio. Your goal was to lose weight. Il vostro obiettivo invece era quello di perdere peso. Tonight is about teaching you what you need to do to achieve the goal that you want. E stasera lo scopo è dimostrarvi cosa dovete fare per ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. Stiamo per intraprendere un viaggio di otto settimane a partire da stasera. E le tre cose su cui ci focalizzeremo sono il vostro piano, i prodotti e la vostra comunità. E ovviamente voglio che facciate domande perché comunque vi risponderemo live. Perché vi vedo tutti qui. It's really dangerous, Mark, to say this. Now I want everyone to give me two. Put two fingers up in the air. Voglio che tutti quanti mettiate mi piace. There are two things that make Zen Project 8 different than everything else. Ci sono due cose che rendono Zen Project 8 diverso da tutti gli altri. So keep the two. It's all about the theme of two tonight. Quindi tenete in mente il due perché è tutta questione di due stasera. We're going to focus on the two ways that make us different. Ci focalizzeremo sui due modi che ci rendono diversi. Quindi quando qualcuno vi dirà che dovreste seguire un programma diverso. You're going to understand what you learn tonight is how you permanently take your body to another level. Capirete che ciò che state imparando stasera è come far fare un salto di qualità al vostro corpo. Now what you see on your screen is the eight-week program that you're starting tonight. Quello che vedete sullo schermo ora riguarda il programma di otto settimane che partirà da oggi. Now many of you might have done it before. Magari molti di voi l'hanno già iniziato prima. Many of you are just learning about it right now. E molti altri invece ne stanno sentendo parlare solamente ora. Make sure you download these program guides from your Jeunesse Back Office or the Zen Project 8 Facebook group. Quindi scaricate queste guide dal gruppo di Facebook o dal programma di Jeunesse. And I'm going to help you understand how to take each one of these phases and optimize them tonight. E io adesso vi aiuterò a capire come utilizzare e ottimizzare ognuna di queste fasi. Now let's talk about the first way we're different than every other program in the world. Quindi parliamo del primo modo, della prima cosa che ci rende differenti da ogni programma al mondo. I have two children. I have a 12-year-old and a 2-year-old with my wife Abby. Con mia moglie Abby abbiamo due bambini, uno di 12 e una di due anni. And when they were babies, they ate every three hours protein, fat and carbohydrates and breast milk. They stopped eating when they're satisfied and they ate again when they were hungry. Quindi da piccoli mangiavano ogni tre ore proteine, grassi e carboidrati. E poi lo rifacevano quando sentivano di nuovo fame. See, you were once a baby too, just like me, just like Paolo, just like Antonella. Anche voi siete stati bambini come me, Paolo, Antonella. And that's how you ate Lucia, Sofia, William, Roberto, Ivana, everyone watching, Katie. That's how you ate as a baby. E anche Guglielmo, Claudia, Amaro, Ivana, tutti quelli che stanno qui in live eravate anche voi dei bambini. And you ate that way because you had a part of your body's energy. Mangiavate in quel modo perché l'energia del vostro corpo Well, I'm going to draw a little diagram right here for you. Vi mostro un attimo un diagramma. It was created through an energy source in your body called ATP. C'era una fonte di energia nel vostro corpo chiamata ATP. ATP is your body's energy, just like how gas runs a car. ATP è la vostra energia. And it's stabilized through blood sugar balance. E si stabilizza con la glicemia, con l'equilibrio della glicemia. You see, most people skip meals or skip breakfast or they'll skip that mid-morning meal. Allora, molte persone saltano la colazione o saltano gli spuntini di metà mattina. And every time your blood sugar is low E ogni volta che la glicemia è bassa You drop and you burn muscle Bruciate i muscoli And then that next meal you don't crave chicken or beef or turkey E nel prossimo pasto che fate non avete voglia di pollo o di altra carne You crave the pasta and the pizza, the carbohydrates Ma avete voglia di carboidrati, di pasta, di pizza And that spikes your blood sugar and makes you store fat E questo praticamente fa aumentare la glicemia E aiuta praticamente a mettere su grassi invece di massa muscolare See, most people are eating Basically, if you look over on your screen They're eating breakfast probably La maggior parte di voi farà la colazione They're skipping that mid-morning meal Ma salta il pasto lo spuntino di metà mattina They're skipping this mid-afternoon meal Salta anche lo spuntino di metà pomeriggio And that's causing them to overeat at lunch and overeat at dinner E questo fa sì che a pranzo o a cena si mangi il doppio Si mangi più di quanto ce ne sia bisogno So then they start to gain weight Quindi si inizia a prendere peso They don't like what the scale shows or how their clothes fit Non ci piace ciò che ci mostra la bilancia o come ci vanno i vestiti And they start cutting calories E quindi perciò iniziamo a tagliare le calorie And then as they do that They start getting some results and getting healthier Mentre lo facciamo ovviamente abbiamo dei risultati Ci sentiamo più in salute But they don't change how they're meant to be fed And they start going back to what they used to do Ma questo non cambia la mentalità Perciò poi si ritorna inevitabilmente alle abitudini di prima They then gain everything back Si ricomincia a mettere su peso And the cycle repeats itself E poi il ciclo ricomincia That's called yo-yo dieting E questo si chiama effetto yo-yo We do not do that with Zen Project 8 Con Zen Project 8 questo non succede We created a program not based upon starving yourself Perché abbiamo creato un programma che non è basato sul farvi morire di fame But based on balancing your blood sugar so you stay in this range right here Ma sull'equilibrio del livello di zucchero nel sangue And then this allows you to achieve the results whether you want to lose weight or gain weight like Paolo E questo vi aiuta ad ottenere i risultati che volete Che qualsiasi essi siano se volete mettere su peso o perderlo So everyone watching right now Quindi chiunque stia guardando questa live adesso As you think about the goal that you want to achieve Pensate all'obiettivo che volete raggiungere I want you to realize this E voglio che capiate questo With Zen Project 8 we're not asking you to stop eating the food you love Con Zen Project 8 non vi stiamo chiedendo di smettere di mangiare il cibo che vi piace Most people are already eating breakfast, lunch and dinner Molte persone mangiano già a colazione, pranzo e cena We're basically just educating you on showing you how to eat them in the right time and at the right balance Ma noi vi educhiamo solamente a mangiare nel giusto equilibrio e nei giusti orari And then we design ZenFuse to fill those hard to eat times in the mid-morning, mid-afternoon E abbiamo sviluppato ZenFuse per aiutarvi a bilanciare gli orari tra i vari pasti See protein affects the hormone glucagon which raises your blood sugar Quindi le proteine hanno effetto sul glucagone, sull'ormone che incide sulla glicemia Carbs affect the hormone insulin which lowers your blood sugar I carboidrati agiscono su un altro ormone che abbassa il livello di zucchero nel sangue And fat slows down the rate of digestion to help keep you satisfied longer E i grassi aiutano a rallentare la digestione e questo vi rende sazi un po' più a lungo So the first thing that makes us different Quindi la cosa che ci rende diversi in primo luogo Is we teach you how to balance the plate with the foods that you love to keep your blood sugar stable E quello di aiutarvi ad equilibrare il vostro piatto con proteine, grassi e carboidrati in parti uguali Per mangiando comunque il cibo che vi piace We're not cutting your calories and we're not taking away your carbohydrates Non stiamo assolutamente eliminando le calorie o i carboidrati che vi piacciono And we're not telling you to starve yourself E non vi stiamo nemmeno dicendo di morire di fame Zen Project 8 is a program that whatever the goal is that you want to achieve Zen Project 8 funziona che qualsiasi, in questo modo, qualsiasi sia il vostro obiettivo You will achieve that goal Lo otterrete And you will make this program a lifestyle for you, your friends and your family E renderete questo programma uno stile di vita per voi, la vostra famiglia e i vostri amici And there's two things I want you to continually ask yourself before you do any program for the rest of your life E voglio che vi chiediate due cose prima di continuare col programma Number one, is it based on the science of your body? Il numero uno è basandosi sulla scienza del vostro corpo And you just learned that with Zen Project 8, the program is based on the science of your body E con Zen Project 8 sapete che comunque è basato sulla scienza del vostro corpo And the second question is, can I do it for the rest of my life? La seconda domanda è, posso farlo per il resto della mia vita? See, all programs work Tutti i programmi funzionano All protein shakes have some good qualities Tutti i frullati proteici hanno delle buone qualità But no one here is looking for a temporary result Ma nessuno qui sta cercando dei risultati temporanei You are looking to change your lifestyle and become better Voi state cercando di cambiare il vostro stile di vita per sentirvi meglio So is my program based upon physiology and can I do it for the rest of my life? Quindi il programma è basato sulla fisiologia e posso farlo per il resto della vita? Now, Paolo, before I go on, how does that sound to you? So good! Super Mark, like always Ovviamente sempre al top Mark Davvero ragazzi, vi posso veramente dire che le persone che stanno utilizzando questo programma Sono veramente contente, stanno trovando un bel equilibrio E come sapete ovviamente la magia non esiste Ma avere un programma che ti aiuta, che ti supporta E che veramente ti aiuta a trasformare le tue abitudini alimentari È tanta 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 roba Love it! So that's the number one way we're different Quindi questo è il primo dei modi in cui siamo differenti dagli altri Like Mark, sorry on things Like also Federica exactly suggests me He lost 12 kilos since she started to do Zen Project 8 And now she's amazing body and super girl Say that in Italian Praticamente in... Vai tu? Si, si, dillo, dillo Ok, c'è Federica, un'amica di Paolo che ha perso Ah, mia ragazza, va bene Adesso Ah, ok Ah, perfetto E si sente benissimo dopo aver perso questi chili So remember, so Federica, well done! We bring you on this show Quindi Federica, veramente complimenti E ti porteremo come esempio nello show Now remember the two things There's two things that make Zen Project 8 different Ricordate che ci sono due cose quindi che rendono Zen Project 8 differente dagli altri The first thing you just learned The philosophy of how you're going to eat Quindi la prima cosa l'avete già imparata È la filosofia del mangiare sano Di come dovrete mangiare Not change a lot, just get smarter at what you do Non cambia molto, ma dovreste essere solamente un po' più furbi So you simply follow the program, guys And you eat the protein, fats, and carbs that you like Seguite il programma Mangiate le proteine, i grassi, i carboidrati che vi piacciono You follow the portion sizes Seguite le porzioni And you balance your plate Ed equilibrate il vostro piatto But the second way that Zen Project 8 is different is Zen Fuse Ma la seconda cosa che rende Zen Project 8 diverso è Zen Fuse Now I know this slide is in English So we will be translating it to Italian Quindi so che la slide è in inglese ma la tradurremo in italiano But I want everyone watching to put the number 2 up Guardate il numero 2 So what we're focusing on with Zen Fuse Is two types of protein Con Zen Fuse ci focalizziamo su due tipi di proteine Two shakes a day Due frullati al giorno Two bags a month E due buste al mese Now we designed this shake And I want to get off the screen so you can see me right here Abbiamo sviluppato questo frullato E voglio che mi vediate Sto qui sullo schermo con voi We designed this shake with a purpose Questo frullato ha uno scopo Two types of protein Ha due tipi di proteine So we put fast acting protein in it And you do that at home fast acting Abbiamo una proteina a rilascio rapido And that's whey protein Che è la proteina del siero di latte And then we put slow acting protein E abbiamo anche messo una proteina a rilascio lento Which is micellular casing Che proviene dalla caseina micellare Now I want to apologize for my drawing right now Mi scuso già da adesso per il disegno che farò But I'm going to give you a bit of a visual right here Ma vi voglio mostrare le cose in maniera un po' più visuale So this is Zenfuse right here Ok? Questo è Zenfuse We put two types of protein Abbiamo inserito due tipi di proteine We put the whey protein Which is right here La proteina del siero di latte Qui alla sinistra And then we did micellular casing Which is a slow acting protein È la proteina lenta Della caseina micellare There's 21 grams of protein In Zenfuse In Zenfuse ci sono 21 grammi di proteine 11 grams of it Is whey protein 11 grammi di proteina di siero di latte 10 grams of it Is micellular casing 10 grammi sono di proteina Di caseina micellare Now micellar casing The slow acting protein La caseina micellare È una proteina lenta We broke that down To a cellular level And made something exclusive Called true cell L'abbiamo sintetizzata A livello cellulare Creando una Miscela proteica Esclusiva Chiamata true cell Only available in Zenfuse Che è disponibile Solamente in Zenfuse The 11 grams of whey protein Feed your muscles fast Gli 11 grammi di proteina Di siero di latte Aiutano a Alimentare i vostri muscoli The 10 grams of true cell Is what keeps you satisfied Two hours longer Than any other shake In the world I 10 grammi di true cell Invece sono quelli Che vi aiutano A sentirvi sazi Due ore in più Rispetto a tutti Gli altri frullati Approximately Two hours longer Circa due ore in più The combination of this protein La combinazione di questa Miscela proteica Is what balances Your blood sugar And allows you To stay satisfied In between your meals Bilancia il livello di glicemia E vi aiuta a rimanere sazi Tra i pasti It is the most unique Protein blend In the world Because true cell Is only found In Zenfuse È una miscela proteica Esclusiva I risultati in modo permanente And then Zenfuse Protein blend It goes through you Too fast Quindi La proteina Del siero Di latte È una proteina A rilascio veloce Perciò La smaltite velocemente So the combination Matters Perciò Quello che è importante È appunto La combinazione Di queste due proteine In addition It has Five strains Of probiotics To keep your Digestive system healthy In In aggiunta Ha anche Dei probiotici Che Aiutano Il vostro Sistema digerente Ad essere Più in salute Five grams Of fiber To help Keep you regular And slow down Digestion as well Anche Cinque grammi Di fibre Che aiutano Che vi aiutano A digerire meglio It's gluten free And soy protein free È gluten free Quindi è senza glutine E senza proteine Di soia And When anyone's Using soy protein They're using soy protein Because it's a cheaper Type of protein Quelli che usano Le proteine Della soia Le usano Perché sono comunque Molto economiche Now We're gonna We've already talked About how Paolo Paolo And I Are gonna Do more Facebook Live So we'll Dive Into more Science In each One Abbiamo Abbiamo già Detto che faremo Molte live Vi e Paolo E in ognuna Ci concentreremo Su degli aspetti Scientifici But the goal Of tonight Is to help You understand How to take Your products And use the program To achieve The goal That you want Ma l'obiettivo Di stasera È quello Di usarevi A capire Come usare Il programma Per ottenere I risultati Che vi siete Prefissati So remember We talked About the Three phases The restart Phase The ignite Phase And the Thrive Phase Quindi ricordate Che abbiamo Parlato Delle tre Fasi La fase Riparti Accelera Sviluppa Detoxing Ignite And Thrive You download Your program Guide To see The food List That you Can follow Scaricate La guida Così Potete Seguirla Passo Passo You ask All questions On this Facebook Live And Throughout On the Page And we Answer It Chiedeteci Qualsiasi Cosa Tramite Questa Live Oppure Sulla Pagina Facebook But in The restart Phase We focus On the Food You eat Drinking Zen Fuse And then We add A product Called Zen Prime Nella Parte Di Nella Fase Riparti Utilizzeremo Zen Fuse Zen Prime Come Frullati So Tonight I want You to Pull out A piece Of Paper E Adesso Voglio Che Prendiate Un pezzo Di Carta I Want You To Think About The Breakfast Lunch And Dinner You're Already Eating E Voglio Che Pensiate Alla Colazione Al Pranzo E Alla Cena Che Fate Già I Want You To Take Out And Look At The Program Guide To Say Okay This Is The Protein Fat And Carbs I'll Eat At Those Meals Voglio Che La Confrontiate Con La Guida Del Programma Per Vedere Se Le Proteine Grasse Carboidrati Che Mangiate Siano Equilibrati And Then For The In Between Meals You Can Do Your Zen Prime 30 Minutes Before Your Zen Fuse If You Say Wait A Second Mark I Want To Drink Zen Fuse For Breakfast Ma Poi Mi Dite Aspetta Un Attimo Mark Voglio Prendere Zen Fuse Come Per Colazione Forse Anche Paolo Vuole Farlo Or Anna Watching Simply Swap Zen Fuse For Breakfast And Have A Real Meal In The Mid Morning Sostituite Semplicemente Zen Fuse Come Colazione E Fate Un Pasto Vero A Metà Mattina You See You See Right Here The Portion Sizes Qui Potete Vedere Le Porzioni All The Ladies Palm For Protein Le Proteine Per Le Donne Sono Del Palmo Di Una Mano Fist For Carbs Un Pugno Per Carboidrati Un Pollice Per Carboidrati A Thumb For Your Oils And Your Butter But Then A Small Handful For Your Nuts And Seeds For All The Men Right Here Let Me Draw This Again All The Men We Would Just Hold On One Second I Had Problems Here We Go For All The Men You Would Focus On Making Sure That You Have The Portion Sizes Right There Ok Per Tutti Gli Uomini Potete Vedere Le Porzioni Proprio Qui Un Attimo And You Would Do Two Palms Of Protein Per Quanto Riguarda Le Proteine Farete Due Palmi Della Mano Two Fist Of Carbs Due Pugni Di Carboidrati And One Thumb Of Fat Or One Big Thumb Of Fat Or A Handful Of Nuts And Seeds Un Pollice Di Grassi Oppure Una Manciata Di Arachidi And If Somehow You All Hands Men Or Women Semplici Cose It Clears Out All Your Toxins Vi Depura Dalle Tossine It Helps Optimize Your Digestion Vi Aiuta Con La Digestione And It Cleans Your Liver E Aiuta A Depurare Il Fegato And You Simply Take One Tablet Of Zen Prime Thirty Minutes Before Your Zen Fuse Quindi Prendete Una Compressa Di Zen Prime Trenta Minuti Prima Di Zen Fuse For Men And Women Sia Per Uomini Che Per Donne Seven Day Restart Phase To Detox Your Body La Fase Riparti Dura Sette Giorni Now As We Start This Journey Together And You Run These Eight Weeks Quindi Adesso Iniziamo Questo Viaggio Insieme Di Otto Settimane And You Focus On The Goal You Want To Achieve We Move Into The Ignite Phase Same Program Il Programma È Lo Stesso We Add Some More Food Abbiamo Solo Aggiunto Del Cibo In Più You Bring Some Exercise In E Mettete Anche Fate Anche Della Attività Fisica Zen Fuse You Continue To Use Continuate A Utilizzare Zen Fuse But If You're Not Paolo And You Still Want To Burn Fat Ma Se Non Siete Paolo E Quindi Volete Comunque Bruciare Grassi Every Pound Every Kilo Of Stored Fat Has 7000 Calories Ogni Kilo Di Grasso Accumulato Ha 7000 Calorie And Zen Shape Helps You Burn That Fat Zen Shape Aiuta A Bruciare Quel Grasso Zen Shape You Would Take Two Capsules 30 Minutes Before You Drink Your Zen Fuse Shake Quindi Zen Shape 2 Compresse 30 Minuti Prima Di Prendere Zen Fuse Zen Shape Will Help Balance Your Hormone Leptin Which Keeps You Satisfied Zen Shape Aiuta A Bilanciare L'ormone Della Leptina Che Vi Aiuta Quindi A Rimanere Sazzi It Helps Balance Your Blood Sugar And Increases Your Body's Ability To Burn Fat Equilibra Anche Il Livello Di Glicemia E Vi Aiuta A Bruciare Grassi If Your Goal Like Paolo Is To Not Burn Fat Simply Have A Zen Fit Before You Take Your Zen Shape Instead Of Your Zen Shape Because Zen Fit Helps You Build Muscle So We Got The One Week Restart Phase Then We Move To The Ignite Phase And Then We End Up With The Thrive Phase This Eight Week Experience Is For You To Rock Together Now In Future Facebook Lives We'll Dive Deeper Into Each Phase We'll Answer More Questions But This Is Designed To Give You The Overview Of How You're Going To The Journey You're Going To Walk These Next Eight Weeks Ma Stasera Voglio Darvi Soltanto Una Visione Generale Di Come Si Svolgerà Il Programma In Queste Otto Settimane So I So I Want Everyone To Make Muscle Right Now Make A Muscle Paolo Give Me Some Muscles Baby Paolo Fammi Vedere i Muscoli Say Tell Yourself Muscles My Friend Dite Che I Muscoli Sono Vostri Amici See Fat Is Burned In Muscle I Grassi Si Bruciano Grazie Ai Muscoli One Kilo Of Muscle Is Three Times Smaller Than One Kilo Of Fat Un Kilo Di Muscoli È Tre Volte Più Piccolo Di Un Kilo Di Grassi So Men And Women You Need Muscle Quindi Sia Le Donne Che Gli Uomini Hanno Bisogno Di Muscoli This Is Why We Made Zen Fit Ed È Per Questo Che Abbiamo Progettato Zen Fit So I'm Going To Bring Back My Little Whiteboard Here Don't La 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 Non Ridete Di Pronto I Mie Disegni And I Want To Talk To You About Amino Acids Real Quick Vi Voglio Parlare Velocemente Degli Amino Acidi So Amino Acids Are The Building Blocks Of Protein Gli Amino Acidi Sono I Mattoncini Delle Proteine So When You See A Gram Of Protein In Zenfuse It Has 21 Gram Of Protein Quando Vedete Un Gram Di Proteine In Zenfuse Che Ne Ha 21 Gram Addirittura Every Gram Of Protein Has All Of The Amino Acids Necessary To Make A Gram Of Protein Ogni Gram Ha Tutti Gli Amino Acidi Necessari Per Fare Un Gram Di Proteine You Have Non Essential Amino Acids Which Means Your Body Can Make Them And You Have Essential Amino Acids Where Your Body Cannot Make Them Avete Amino Acidi Non Essenziali Ed Essenziali Gli Amino Acidi Non Essenziali Sono Amino Acidi Che Il Sono Quelli Che Non Produce When You Eat Protein That Comes From Fruit Or Vegetables Or Most Carbohydrates They Are Non Essential They Are Incomplete Protein Which Means They Don't Have Enough The Essential Amino Acids Quindi Quando Mangiate Proteine Provenenti Da Frutta E Verdura Sono Contengono Amino Acidi Non Essenziali Don't Look At That As Proteine Quindi Non Non Pensatele Come Proteine We Made Zen Fit With All Of The Essential Amino Acids Abbiamo Progettato Zen Fit Con Tutti Gli Amino Acidi Essenziali Which Means That When You Take Zen Fit Il Che Significa Che Quando Assumete Zen Fit It Can Combine With All The Non Essential Amino Acids In Your Liver Si Può Combinare Con Tutti Gli Amino Acidi Non Essenziali Presenti Nel Vostro Fegato And Make Protein E Creare Così Le Proteine This Is Why Zen Fit Is Amazing To Have Right After A Workout Ed È Per Questo Che Zen Fit È Stupendo Da Prendere Anche Dopo Soprattutto Dopo L'attività Fisica And Then The Days You Are Not Working Out You Would Simply Take It 30 Minutes Before Your Zen View Shake Nei Giorni In Cui Non Fate Attività Fisica Prendetelo 30 Minuti Prima Del Vostro Frullato Zen Fuse And This Is How You Starting To See How The Program Works Same Eating Plan We Keep Adding New Foods To Keep It Interesting And Make It A Way Of Life Ma Aggiungiamo Man 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 Del Dei Cibi Diversi Per Renderlo Un Po Più Interessante The Foundational Product Because Most People 99% Skip Meals Is Zen Fuse Il Prodotto Base Ovviamente È Zen Fuse We Made Zen Fuse Because We Already Know People Skip Meals Abbiamo Progettato Zen Fuse Perché Sappiamo Che Il 99% Delle Persone Salta I Pasti And Then If You're Ready To Actually Turbo Charge Your Results You Can Detox With Prime Burn Fat With Shape And Build Muscle With Fit Ok Ok Quando Siete Pronti A Ottenere Risultati Giusti Per Voi Potete Disintossicarvi Con Prime Mettere Su Massa Muscolare Con Shape E Pin Burn Fat With Shape And Build Muscle With Fit Ok Bruciare Grassi Con Shape E Mettere Su Massa Muscolare Con Zen Fit See The Eight Week Experience That We're Walking Together Quindi Questo Viaggio Di Otto Settimane Is Designed To Set You Up To Win Every Step Of The Way E Programmato Per Aiutarvi A Ottenere I Risultati Giusti Per Voi And Talking Apollo Today Was Not About Giving You All The Information Right Now E Oggi Non Si Tratta Di Darvi Tutte Le Informazioni Cos Tutte In Una Volta And Making This A Ten Hour Webcast E Rendere Questa Webcast Lunga Dieci Ore It's About Giving You Information As You Need To Live In Rock Ma Si Tratta Di Darvi Le Informazioni Giuste Per Farvi Iniziare A Vivere Appieno La Vostra Vita So Before We Go To Q&A With Paolo Quindi Prima Di Iniziare Le Domande Risposte I Want To End With Some Action Items And A Story With You Vorrei Condividere Una Storia Con Voi The Action Items Are This I Want You To Share This Facebook Live With Someone You Know That's Ready To Make Their Health Matter Ok Quello Che Vi Chiedo È Di Condividere Questa Facebook Live Con Le Persone Che Con Con Così Da Aiutarle A Raggiungere I Risultati Che Che Si Vogliono Prefissare I Want You To Download The Restart Ignite And Thrive Program Guides From Your Jeunesse Back Office Voglio Voglio Scarichi Dal Vostro Back Office Jeunesse Le Fasi Uno Due Tre Quindi Riparti Accelera E Sviluppa I Want You To Take A Before Picture Of Where You Are Right Now In Your Body Voglio Che Fate Una Foto Del Vostro Corpo Adesso Prima Di In 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 Il Programma I Want You To Ask A Question Sometime From Now Till Next Week On This Facebook Live E Voglio Che Su Questa Pagina Facebook Sotto Questa Live Chiediate Delle Domande Da Oggi Fino Alla Settimana Prossima And Most Important I Want You To Make A Decision That Tonight Is The Night That You Choose To Make Your Health The Most One Of The Most Important Things In Your Life E Voglio Che Decidiate Che Sia Proprio Stasera La Sera In Cui Iniziate Veramente A Vivere E A Rivoluzionare La Vostra Vita I Was With Stefania A Few Weeks Ago Un Paio Di Settimane Fa Ero Con Stefania And She Said You Know Mark I Miss Some Of The Stories You Used To Tell Because I 've Stori Da Raccontare But Sometimes When You Tell A Story A Lot That You Feel Like Everyone Knows That Story Ma A Volte Quando Racconti Una Storia Tante Volte Ti Sembra Che Quasi Tutti La Conoscano But Probably The Story That Means The Most To Me In My Life Is The Story Of My Wife Abby Ma La Storia Che Mi Sta Più A Cuore Ovviamente È La Storia Di Mia Moglie Abby See I See Very Young Young Fit People Like My Friend Paolo Incontro Molte Persone In Salute E Toniche Come Il Mio Amico Qui Paolo I See Fellow 40 And 45 Year Olds Like Myself Vedo Anche Gente Di 40 45 Anni Come Me And Then I Know 60 70 80 Year Old People As Well See My Wife Abby When She Was In Her 20 Had Someone Fall Into Her Neck Sorry Can You Repeat The Last Thing So My Wife Abby In Her 20 Someone Fell Into Her Neck And She Was Diagnosed With Something Called Fibromyalgia Okay A Mia Mogli Abbia A 20 Anni E Stata Diagnosticata Una Grave Patologia It Was An Impact Injury That Triggered Her Body To Start Attacking Herself Praticamente Una Patologia Che Spinge Il Corpo A Rivoltarsi Contro Se Stesso And I Remember Before She Got Hurt How We Had This Vision Of The Life We Are Going To Live And Then I Saw A Year Period Of Time Where She Could Barely Walk Fibromyalgia Is A Neuromuscular Disease That Causes Chronic Pain And Inflammation But I Can Say That I Am On The Webcast With You Right Now Because It's Something That Happened In 1999 With Abby I Walked Out Of Our Bedroom And I Saw Her Crying On The Couch She Looked Up At Me And She Said I Lost All Hope Mi Ha Guardato E Mi Ha Detto Perso Le Speranze I Never Going To Get Better Non Guarirò Mai So As A Health Expert Quindi Come Esperto Della Salute And A Husband E Come Marito The Idea That My Wife Has Given Up On Her Body Was Probably The Most Difficult Thing Ever L'idea Che Mia Moglie Avesse Perso Tutte Le Speranze Sul Suo Corpo Era La Cosa Più Difficile And At That Moment I Said No Matter What You Can't Give Up On Your Health In Quel Momento Ho Detto Che A Prescindere Da Tutto Indipendentemente Da Qualsiasi Cosa Non Puoi Perdere Le Speranze Non Puoi Darti Per Vinta And Abby Became My Greatest Hero That Moment Because Instead Of Choosing To Let Her Health Slide She Chose To Fight For Her Health And We Started Chipping Away 1% At A Time To Get Her Better And It Took A Year But She Became Medication Free And She Was Able To Start Walking C'è Voluto Un Anno Però Poi Ha Smesso Di Prendere Le Medicine E Quindi Ha Iniziato Anche A Camminare Now She Still Has Fibromyalgia Ancora Quella Patologia She Still Has Good Days And Bad Days E Ancora Dei Giorni No Dei Giorni Si E Dei Giorni No But My Message To You Tonight Is This Ma Il Mio Are With Your Body No Matter How Fit You Think You Are No Matter How Challenge Your Health May Be It Can All Change In An Instant And What You Do When That Moment Happens Defines Who You Are But I'm Here With You Tonight Because I Have A Mission Throughout The World To Prevent People From Ever Losing Hope With Their Health And If You Somehow Do Have An Injury Or A Challenge Like Abby Had By Taking Action With Your Health Now You Will Have The Education To Win Siete Pronti Per Vincere Look We Have A 12 Year Old Son And A Two Year Old Daughter Because Abby Chose To Fight For Her Health Oggi Abbiamo Un Figlio Di 12 Anni E Una Figlia Di Due Perché Abby Ha Deciso Di Combattere Per La Propria Salute And Many You Know We Named Our Baby Girl Hope E Ovviamente Quando È Nata La Bambina Abbiamo Deciso Di Chiamarla Hope Che In Italiano Vuol Dire Speranza I Was In Milan In May A Maggio Sono Stato A Milano Paolo And I Did A Fun Facebook Live A Few Months Ago Paolo E Io Abbiamo Fatto Una Facebook Live Proprio Qualche Mese Fa We Then Had Product Challenges With Zen Poi Abbiamo Avuto Dei Problemi Con Zen I Sorry About That Ne Ovviamente Abbiamo Sistemato La Domanda E L'offerta C'era Carenza Di Prodotti Purtroppo Esatto Mark Just Tell me What Is Esatto C'era Abbiamo Talmente Spaccato Questo Progetto Che Siamo Andati In Deficit Nel Magazzino Veramente C'è Stata Una Richiesta Incredibile E Tutte Le Scorte Di Un Anno Sono Andate Sold Out In Tre Mesi Provate Un Po Pensare Yeah We So Much Demand Praticamente Abbiamo Finito Le Scorte Due Volte Ben Due Volte Perché C'era Così Tanta Domanda Da Farle Finire Subito Ma Stasera Sono Qui A Dirvi Che Da D'ora In Poi Ogni Due Settimane Sarò Qui A Fare Live Per Darvi Il Supporto Necessario And We Are Taking Italy To The Next Level E Porteremo L'Italia Al Prossimo Livello So I'm Asking You Tonight Quindi Stasera Vi Chiedo Questo To Draw Your Line In The Sand Tracciate La Linea Sulla Sabbia And Choose To Start Your Transformation Now E Iniziate Scegliete Di Iniziare La Vostra Trasformazione Proprio Oggi Because We Are Going To Have A Lot Of Fun Together Perché Ci Divertiremo Molto Insieme Prepariamoci ad abbracciarci tutti a Milano la prossima settimana Ok Paolo My Friend What Are Some Questions That We Want To Talk About Ok No ragazzi Come vi ha detto Mark Abbiamo tantissime domande Da chiedergli Vorremmo Veramente Averlo Come Personal Trainer In Palestra Dietro Di Noi Che Veramente Ci Aiuta Gli Farò Giusto Cinque Sei Domandine Che Sono Le Più Frequenti Per Poi Le Prossime Zoom Veramente Entrare Nello Specifico Di Molte Domande Mark Producigliato Antonella Così Ovviamente Capiscono Anche Le Persone Una Cosa Che Mi È Stata Chiesta È Se Zen Può Essere Usato Da Persone Che Hanno Problemi Di Tiroide Ok Can People Who Suffer From Thyroid Problems Use Zen Project 8 Yeah So Great Question Paolo Ok Bella Domanda Paolo So Yes Everyone Who Has Challenges With Any Type Of Auto Immune Challenge Ovviamente Chiunque Soffra Di Malattie Auto Immuni Thyroid Crohn's Disease Digestive Challenges Sia Che Si Tratti Di Problemi Alla Thyroid O All'apparato Diggerente There Is No Better Program For Them Zen Project 8 Zen Project 8 È Il Programma Migliore Because Remember We're Teaching Blood Sugar Balance And When Your Blood Sugar Is Balanced Your Hormones Are Balanced Perché Ricordate Che Si Tratta Di Bilanciare Il Livello Di Glicemia Quando Si Bilancia La Glicemia Quindi Il Livello Di Zucchero Nel Sangue Si Bilanciano Anche Gli Ormoni And Even If You're Diabetic There Is No Stronger Program For Diabetic As Well E Ovviamente Il Programma Migliore Anche Per Chi È Diabetico You Just Want To Think About All Medical Challenges Are An I The Body Pensate A Tutte Le Patologie O I Problemi Di Salute Che Portano Delle Disfunzioni Nel Corpo So You Can Bring Balance Back With Nutrition Con L'alimentazione Potete Riportare L'equilibrio Nel Nel Vostro Corpo Ok Oh Yes Thank you So My Phone Ok I'm Here Ok La Seconda La Seconda Domanda È Sono Abbiamo Tantissime Persone Che Fanno Già Un' Attività Fisica Importante O Comunque Sono Ben Allenati E Vogliono Sapere Come Zen Project 8 Può Funzionare Per Loro E In Che modalità Ok We Have Many People Who Already Work Out So They Want To Know How Zen Project 8 Can Work For Them And How I Mean Yeah So We Work With The Best Athletes And Fitness Models In The World Noi Praticamente Lavoriamo Con I Migliori Atleti Al Mondo You Get Will Get You Build More Muscle Because What Zen Project 8 Does Mettete su Massa Muscolare Perché Quello Che Fa Zen Project 8 When Your Blood Sugar Is Balance Your Body Is In A Positive State Called Anabolic Environment And And Il Live Di Zucchero Is Bilanciato Il Vostro Corpo Sta In Una Fase Di Equilibrio Che Quindi È Positiva Which Means It Has More Nitrogen Coming In Than Leaving Sorry Mark It Has More Nitrogen Coming Into Your Body Than Leaving Ha Più Nitrogena Che Entra Nel Corpo Piuttosto Di Quella Che Esce Dal Corpo So You'll Be Have Better Energy You'll Build More Muscle And You'll Burn More Fat By Living The Program And Eating PFC Every Three Quindi Avete Più Energia Bruciate Più Grassi E Continuate Comunque A Mangiare Proteine Grasse Carboidrati In Parti Uguali Ogni Tre Ore Then On Top Of That Zenfuse Has All The Right Ingredients With The Protein Blend To Optimize Your Results Zenfuse Ha Tutti Gli Speciale Miscela Proteica And Zenfit With The Essential Amino Acids Build And Protect Muscle Zenfit Con Gli Amino Acidi Aiuta A Mettere Su Massa Muscolare Now This Is The Difference For Someone Like Paolo Who Wants To Gain Weight Or Build More Muscle Quindi Per Qualcuno Come Paolo Che Vuole Mettere Su Massa Muscolare E Quindi Mettere Su Anche Peso Same Program Il Programma È Lo Stesso Ma Paolo Dovrà Assumere Delle Porzioni Più Grandi And Instead Of Doing One Scoop Of Zenfuse Do Two Scoops Invece Di Un Cucchiaio Di Zenfuse Ne Prenderà Due So Someone Like Paolo Has A Faster Metabolism So He Just Ne Ne To Feed Himself More Just Like Elite Athletes Perché Paolo Ha Un Metabolismo Molto Più Veloce In Maniera Alimentarsi Di Più Con Porzioni Più Grandi Così Come Fanno Gli Atleti E Quindi Qualcuno Che Chi È Come Paolo Deve Prendere Anche Zen Shape Ma A Parte Questo Il Programma Va Benissimo Per Tutti And I Worked With Some Of The Top Fitness Models In The World E Ho Lavorato Con I Modelli Di Fitness Più Famosi Al Mondo And A Lot Of Fitness People Think They Need To Cut Calories Or Work Out On An Entry Stomach That Only Hurts You Long Term E Molti Pensano Che C'è Bisogno Di Eliminare Le Calorie O Fare Attività Fisica A Stomach Vuoto Ma Questo È Solamente È Dannoso Per Il Vostro Organismo Perché Facendo In Questo Modo È Impossibile Perdere Il Grasso Nelle Are Problematiche Ma Seguendo Il Programma Bilanciate Gli Ormoni E Quindi Ottimizzate I Risultati Trasformando Il Vostro Corpo In Una Macchina Che Brucia Grassi Next Question Paolo Ok So Mark I Think I Had Another Question But You Already Say To Everyone About The In The Question So I Think We Can Make To You So Many Questions In Another Zoom Call In A Few Weeks So I Think So Many People I Can See And Make The Comment Or Are Curious About So Many Things And We Can Say To These People The Next Week Or Milano We Have Other Things What You Think Perfect So Next Week In Milan La Prossima Settimana Milano There'll Be A Zen Experience Section Come Up And Ask All Questions To Me Ci Sarà Una Sezione Dedicata All Experience All Experience Di Zen Project Quindi Venite Fatemi Domande So So Bring Those Questions But Then In Two Weeks Paolo And I Will Answer The Top 10 Questions And Answer Everything That You Ask Here Quindi Venite Fatemi Pure Domande Ma Tanto In Due Settimane Io E Paolo Risponderemo Alle Dieci Domande Più Richieste Che Appaiono Qui Sulla Sulla Pagina Di Facebook Esatto E Poi Antonella Digli Pure Che Sappiamo Già Che Genesse Mark Stanno Lavorando A Un Nuovo Prodotto Incredibile E Stanno Cercando Di Chiudere Un Accordo Pazzesco Con Una Delle Più Grandi Aziende Al Mondo Per Darci Un Prodotto Ok So We Already Know That With Genesse You Are Trying To Make A New Product To Develop A New Product And Make A Deal With One Of The Most Greatest One Of The Greatest Business In The World So Can You Tell Us Something About It Our Secrets It's A Zen Yes We Are Stiamo Lavorando A Un Prodotto Con Zen Paolo If You Want To Find The Secret Come Up To Me In Milan Paolo Se Vuoi Saper Chiedere A Milano Paolo Lo 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 Can Tell Everybody Us But We Working Exactly We Are Working On Something Ma Ancora Non Lo Possiamo Dire Ok 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 Dai Ragazzi È Stato Veramente Un Piacere Poter Avere Mark Questa Sera E Credetemi Che Faremo Un Evento Al Forum Di Assago 13 14 15 Ottobre Dove Saranno Attesi Più Di Diecimilla Persone Da Tutto Il Mondo E Provate Un Po Pensare Che Ci Sarà Il Lancio Di Nuovi Prodotti Mark Sarà Presente Con Noi Con Tutti Gli Scienziati E Veramente Possiamo Divertirci All'Incredibile E Vi Aspettiamo Tutti Perché È Tanta Tanta Roba Ok See you Mark Ok Mark Everybody Thank you So good Our journey Starts Right now Antonella Thank you So much Paolo I love you And everybody See you Next week E Ci vediamo Con tutti La prossima Settimana Super